Buongiorno a voi, sono Ciro Isidoro, un docente di patologia generale, mi occupo principalmente di cancro e nel cancro studio in particolare il ruolo che ha l'autofagia che è un sistema di pulizia nella cellula che rimuove tutto ciò che è danneggiato e quindi ha un effetto, un ruolo protettivo e questo meccanismo ha un ruolo protettivo anche nell'invecchiamento e quindi quando è indotto aiuta a prolungare la vita delle cellule e quindi dell'intero organismo. Sono stato invitato a questo convegno per moderare la prima sessione e anche per fare un'introduzione appunto sull'importanza che ha questo meccanismo nel migliorare la vita e quindi rendere l'invecchiamento diciamo più in salute. È stata anche l'occasione per dimostrare come l'importanza che ha l'ossigeno in tutta questa vicenda perché quando le cellule si trovano in carenza di ossigeno allora si attivano dei meccanismi che rendono la cellula sofferente, c'è un'attività dei mitocondri che viene compromessa e questo se abbiamo un sistema di autofagia protettiva possiamo rimuovere questi mitocondri. Se questo non funziona come accade nell'anziano allora ecco che subentrano altri problemi che possono portare a un aumento dell'infiammazione e così via. Quindi diciamo lo scopo di questa presentazione era quello di far risaltare l'importanza dell'ossigenazione nei tessuti allo scopo di prevenire quella che viene chiamata inflammaging e che è poi alla base di un invecchiamento precoce e con questo insomma credo di aver illustrato l'importanza che ha anche l'autofagia nel proteggere le cellule.